Non c'è nessuno Non c'è nessuno Che cosa hanno fatto? No, no, calmo, calmo Che sei? Che ti manda? Nessuno C'è stato un incidente sulla strada Che succede? Oh no Arrivano Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma No, perché dovrei? Non c'è tanto questa Prendila Prendila Dimi cosa c'è là fuori Ehi Ehi, vuoi ascoltarmi? Ehi Ma cosa? Merda Un cadavere Ce ne sono altri Cristo santo Che cosa è successo a questo posto? Lassami Merda Ma che cazzo era Ma che cazzo era Mentre Ce winga La Muissa Ma che Buona Puogli Ma che Ma che Poohli Peg Ma Ma è B Ma 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 Ehi Na Ma 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.